Ancora una volta l'incuria e l'erbacce sono state terreno fertile per i piromani che hanno dato fuoco a Caltanissetta. Paura oggi pomeriggio per un incendio quasi certamente di natura dolosa divampato al parco archeologico Palmintelli in piena città. Un incendio di vaste proporzioni che ha procurato allarme non solo tra i residenti delle zone di Viale della Regione e Via Libertà, ma anche tra i dipendenti del Palazzo di Giustizia, visto che le fiamme hanno investito anche una catasta di legno all'interno della nuova ala. Pronto l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. Una nube densa di fumo ha destato non poche preoccupazioni tra i residenti. Adesso si è alla ricerca dei responsabili. Le fiamme hanno distrutto piante, alberi ed essenze presenti all'interno del parco.